Buona domenica! Le ultime domeniche dell'anno liturgico ci offrono l'ultimo grande discorso di Gesù nel Vangelo di Matteo, il discorso escatologico, ovvero le parole di Gesù che riguardano il destino del mondo, discorso che occupa i capitoli 24 e 25 del testo matteano. In quest'ultimo capitolo troviamo concentrate tre parabole che ascolteremo in queste domeniche, che hanno lo scopo di rivelare il senso della storia. La fede cristiana afferma che tutto tende alla vita eterna, a quella comunione perfetta tra creatore e creatura che rappresenta il progetto di Dio per il mondo. San Paolo, nella prima lettera ai Corinzi, in particolare nel capitolo 15, insiste sul fatto che la risurrezione di Cristo rivela che ogni uomo è destinato alla risurrezione e che tutta la storia umana tende ad una perfetta comunione di amore che è la vita eterna. Il discorso escatologico allora ci fa guardare al futuro. Pensare alla fine della vita terrena ci aiuta a riflettere sul fine, sul senso della nostra vita e quindi permette di avere un criterio chiaro per le nostre scelte e le nostre azioni. Se stiamo andando verso l'incontro con Cristo, questo incontro va preparato. Ascoltiamo allora la prima parabola del capitolo 25esimo di Matteo in questa 32esima domenica del tempo ordinario. Dal Vangelo secondo Matteo In quel tempo Gesù disse ai Suoi discepoli questa parabola Il regno dei cieli sarà simile a dieci vergini che presero le loro lampade e uscirono incontro allo sposo. Cinque di esse erano stolte e cinque sagge. Le stolte presero le loro lampade ma non presero con sé l'olio. Le sagge invece, insieme alle loro lampade, presero anche l'olio in piccoli rasi. Poiché lo sposo tardava, si assopirono tutte e si addormentarono. A mezzanotte si alzò un grido, ecco lo sposo, andategli incontro. Allora tutte quelle vergini si destarono e prepararono le loro lampade. Le stolte dissero alle sagge, dateci un po' del vostro olio perché le nostre lampade si spengono. Le sagge risposero, no perché non venga a mancare a noi e a voi. Andate piuttosto dai venditori e compratevene. Ora mentre quelle andavano a comprare l'olio arrivò lo sposo e le vergini che erano pronte entrarono con lui alle nozze e la porta fu chiusa. Più tardi arrivarono anche le altre vergini e incominciarono a dire, signore, signore aprici. Ma egli rispose, in verità io vi dico non vi conosco. Vegliate dunque perché non sapete né l'ora né il giorno. Molte autore concordano sul fatto che questa parabola non vada, compresa cercando di individuare il significato di tutti gli elementi che compaiono nella narrazione, ma che il significato di questo racconto sia, stia nel senso complessivo, che è centrato sull'invito alla vigilanza. Gesù stesso concludendo la parabola ne fornisce la chiave di lettura. Vegliate dunque perché non sapete né il giorno né l'ora. Nella parabola compaiono alcuni passaggi chiave, alcune dinamiche che rivelano il progetto di Dio e che interrogano la nostra vita di fede. Si parte da un incontro. Dieci vergini devono andare incontro allo sposo per andare alla festa di nozze. Non è difficile comprendere, oltre il linguaggio parabolico, che Gesù qui sta parlando di sé. È lui lo sposo che conduce l'umanità rappresentata dalle dieci vergini alla festa di nozze, alla vita eterna. C'è quindi la dinamica dell'incontro, una dinamica fondamentale per la nostra vita di fede, che illumina e rischiara anche il senso della nostra vita come esseri umani. Cristo sta arrivando e noi dobbiamo andargli incontro. Questo è il fine della nostra esistenza, ciò che dà senso a tutto. Comprendiamo allora che conoscendo il fine ultimo è nell'oggi che dobbiamo preparare questo incontro. Cinque vergini sono definite sagge e cinque stolte. cinque vergini, oltre a prendere le lampade che servivano per andare incontro allo sposo, prendono anche l'olio che serviva per alimentare la luce, la fiamma delle lampade. Queste vergini sagge pensano ad ogni eventualità, anche a quella del ritardo dello sposo. Questo è un tema molto presente nelle prime comunità cristiane che si attendevano che la parousia, ovvero il ritorno di Cristo glorioso nel mondo, fosse questione di poco tempo. Allora questa attesa di Cristo diventa questa dimensione costitutiva della nostra fede. Sappiamo che Cristo tornerà nella gloria quando non lo sappiamo, sappiamo però che tornerà e sappiamo però che Cristo possiamo incontrarlo ogni giorno. E allora tutta la nostra vita deve essere un vegliare, non tanto un tenere gli occhi aperti e su questo la parabola è molto chiara, tutte le vergine a un certo punto si assopiscono. Ma il vegliare è una dimensione dell'animo, il sapere che ci si deve aspettare qualcosa e questo qualcosa è la presenza di Cristo nella nostra vita. La vita cristiana quindi è tutto un tendere all'incontro con Gesù, già nell'oggi. E allora questo olio che serve ad alimentare la fiamma, a vedere lo sposo che arriva, credo possa essere letto come la fede, la speranza e anche la carità che ci permettono di incontrare Cristo, di avere gli occhi aperti su quello che accade e riconoscere la presenza di Cristo nella nostra vita. Vigilare, avere il cuore sempre pronto ad andare incontro a Cristo è quindi una dimensione fondamentale della nostra fede. Mi viene in mente un esempio classico, quello dei monaci che si salutavano dicendo così, memento mori, ricordati che devi morire. Non era un saluto arrendevole di chi in fondo svalutava la vita presente considerandola in fondo un qualcosa destinato a morire al nulla, ma anzi proprio ricordando che questa vita avrà una fine e ci sarà l'incontro definitivo con Cristo. Memento mori diventa un invito a valorizzare ogni momento della nostra vita, a far sì che ogni nostra giornata sia riempita di questa ricerca dell'incontro con Dio e della sua presenza che troviamo nella preghiera, nei sacramenti e proprio nella chiesa nella quale sperimentiamo quella carità e quella fraternità che ci parlano e ci fanno incontrare il Signore Gesù che ha detto dove due o tre di voi sono riuniti nel mio nome, ecco io sono in mezzo a loro. E allora questa dimensione, che è quella di un'aspettativa, di una vita che tende e riconosce il suo senso ultimo, ci fa capire anche quello che è il contrasto un po' con il mondo di oggi, prendendo spunto da un modo di dire un po' giovanile che a volte mi capita di ascoltare stando in mezzo ai giovani, oggi più che memento mori, si parla, sento dire ragazzi, vivi come se non ci fosse un domani, che esattamente è la negazione di questa attenzione verso il futuro. La cultura di oggi, oltre ad essere centrata sull'individuo, è una cultura centrata sull'oggi, sul momento e quindi incapace anche di permettere di guardare con speranza il futuro. proprio perché il futuro ci sembra sempre qualcosa di incerto, di dubbio, di oscuro, ecco che allora ci si concentra sull'oggi. La sentenza del Vangelo l'abbiamo ascoltata. Se si vive pensando solo all'oggi, si è stolti, perché alla fine manca, viene a mancare quella luce, quella gioia, quella speranza, anche quella capacità di vedere oltre il buio del futuro. Non a caso, la liturgia della parola pone come prima lettura quella del libro della Sapienza. Cosa vuol dire essere sapienti? Per noi cristiani, per gli uomini di Dio, accorgersi della dimensione che Dio dà alla storia, riconoscere il piano di Dio e conformarsi al piano di Dio. Questa è vera sapienza, ci insegna la Bibbia. Allora essere sapienti, essere saggi, significa essere consapevoli che la propria vita ha origine da Dio e a Dio ritorna. E permette alla vita di tutti i giorni di non essere una semplice sala d'attesa. Ma la vita presente assume un valore ogni giorno importantissimo. Ogni giorno siamo chiamati a preparare questa venuta, proprio per non trovarci impreparati. Riprendo il brano del Vangelo. Le stolte dissero alle sagge, dateci un po' del vostro olio perché le nostre lampade si spengono. Le sagge risposero, no, perché non venga a mancare a noi e a voi. Andate piuttosto dei ventitori e compratevene. Se non si prepara l'incontro con Cristo, se non c'è una fedeltà quotidiana, al momento definitivo dell'incontro con Cristo ci si trova impreparati. Se non ci si allena a riconoscere Cristo ogni giorno della nostra vita, a andargli incontro ogni giorno con quella sapienza che ci insegna la Bibbia, probabilmente poi ci ritroveremo spiazzati. Quando lo sposo arriva sia in questa vita, perché non vediamo, non riusciamo a riconoscere la presenza di Cristo nella nostra vita e la direzione che quindi dobbiamo prendere seguendo Lui alle nozze eterne, soprattutto non riusciremo ad accedere a quella gioia, a quella vita eterna, perché non riconoscendo Cristo non troveremo poi la strada per la vera pace e la vera gioia. C'è una vera e propria sentenza in questa parabola, ma poi anche nelle prossime che ascolteremo, in particolare l'ultima, il cosiddetto giudizio finale. A un certo punto le porte si chiudono, la festa di nozze ha inizio e chi ha seguito lo sposo è potuto entrare, chi non l'ha seguito è rimasto escluso, è rimasto all'esterno. C'è un giudizio, c'è una sentenza. Ecco perché tutto quello che viviamo nella nostra quotidianità deve essere valorizzato, perché produrrà degli effetti. Chi segue Cristo accede alle nozze, chi non lo segue rimane escluso. Questo deve essere un invito per l'oggi, un invito a seguire Cristo, a cercarlo per non rimanere esclusi, per non trovarsi spiazzati di fronte alla venuta di Cristo, al suo giudizio sul mondo. Scegliamo di vivere attraverso quella luce che è la parola di Dio, che è la sua presenza, per non vivere già oggi spiazzati nelle tenebre e un domani trovarci anche confusi di fronte a un giudizio di Dio che ci chiede di essere pronti a quella comunione, a quel fine di tutta la storia che Lui stesso è venuto a portare e che noi forse abbiamo rifiutato. Grazie a tutti, Grazie a tutti. Grazie a tutti.